Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod. Oggi voglio mostrarvi due mods che vi permetteranno, oltre a modificare l'aspetto della TouchWiz dell'S2, di aggiungere veramente tante opzioni per la personalizzazione. Sto parlando della Allianz Mod stile stock e della Allianz Mod stile AOSP. Entrambe le mod funzionano solamente su firmware LSS, LSD e LSN, tuttavia questi tre sono firmware abbastanza comuni. Io ora ho la Snapdragon S2 perché è basata su firmware LSS. Ok, ora andrò a flashare il pacchetto Allianz Mod stile stock e successivamente quello stile AOSP, in modo da mostrarvi prima di tutto come ciascuno dei due modificherà l'aspetto dell'interfaccia e successivamente tutte le applicazioni e le opzioni che si installeranno. Un'ultima cosa prima di passare a mostrarveli. Va precisato che i due pacchetti sono differenti tra loro solo per quanto riguarda le modifiche all'aspetto. Per le funzioni di personalizzazione e le app che verranno installate invece sono assolutamente identici. Ok, installo quindi il primo pacchetto e ve lo mostro. Ok, questa è la mod stile stock. Come potete già vedere dalla schermata di blocco sono cambiati il carattere e il colore del carattere. Inoltre è stato modificato il colore della status bar così come l'area delle notifiche, l'area delle applicazioni e dei widget e il menu delle impostazioni, in cui tra l'altro è comparsa la voce Allianz Control. Inoltre sono state installate le applicazioni ROM Customizer, Allianz Backup e Allianz Wallpaper. Perfetto, passo quindi ad installare e mostrarvi la seconda mod per poi farvi vedere le impostazioni. Ed ecco la seconda mod installata. Lo stile come potete vedere dalla status bar e dalle icone è chiaramente quello delle ROM AOSP e anche qui sono state modificate le varie parti della TouchWiz rendendola quasi irriconoscibile. Ottimo, a questo punto passo a mostrarvi le varie opzioni che sarà possibile utilizzare e impostare all'interno della voce Allianz Control e le app che sono state installate. Nella prima sezione ROM Customizer avremo a disposizione 4 tasti a schermo che vedete qui in alto che ci permetteranno di riavviare, effettuare un riavvio veloce, riavviare in recovery e in download mode. In più avremo a disposizione un root browser quindi un file manager che ci permetterà di controllare anche le cartelle di sistema, potremo flashare file dalla SD interna e da quella esterna, agire sulle applicazioni di sistema e su quelle scaricate e accedere al menu impostazioni che costituisce la seconda sezione. Qui saranno presenti le vere e proprie impostazioni per la personalizzazione. Iniziamo vedendo quelle per la lock screen. Prima di tutto potremo scegliere tra 9 diversi tipi di blocco schermo tra cui quello classico del Galaxy S3 con l'effetto increspatura, quello del BlackBerry 10, quello classico di Jelly Bean, quello dell'LG Optimus 4X, quello degli Acer e dell'Xperia Z. In più saranno disponibili le schermate di blocco Lezzo, degli HTC e Rotary ovvero la lock screen di una vecchia versione di Android. In più potremo impostare lo sfondo di blocco dell'Xperia, nascondere la status bar, impostare la torcia, la pressione prolungata e il suono, il ripple effect ovvero l'effetto increspatura e l'effetto inchiostro. Infine potremo scegliere il colore e un eventuale testo. Alla seconda voce UI Mods potremo scegliere alcune opzioni riguardanti l'orologio, la status bar e i toggle, quindi potremo riordinarli e scegliere quali inserire. Per quanto riguarda alcune di queste opzioni richiederanno il riavvio dell'interfaccia. Vi basterà premere su Restart System UI e farà tutto da solo. Su Phone Mods avremo a disposizione alcune impostazioni per le chiamate e il dialer telefonico. Alla quarta voce General Mods potremo impostare i colori del tema, dei testi e alcuni effetti come il CRT, e infine su Application Mods, abilitare o disabilitare lo scrolling degli sfondi, l'edge zoom e le foto nei contatti. Nell'ultima sezione Allianz OTA potremo scaricare alcuni pacchetti tra cui kernel e animazioni di avvio. Per quanto riguarda le due applicazioni Allianz Backup e Allianz Wallpaper, la prima ci permetterà semplicemente di effettuare un salvataggio delle impostazioni. La seconda in realtà non ho capito bene a cosa serva. Va specificato che per l'utilizzo di queste tre applicazioni che verranno installate sono richiesti i permessi di root. Per quanto riguarda invece le custom settings non saranno necessari. Ok, se avete la possibilità di provarle io sicuramente vi consiglio di dare un'occhiata a queste due mods, poiché come avete visto aggiungono veramente un sacco di impostazioni e personalizzazioni. Quindi, perfetto, questo per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando ricordatevi di mettere un bel mi piace, condividerlo e far conoscere il canale. I link per i download li trovate come sempre in descrizione e per qualsiasi cosa potete contattarmi nei commenti qui sotto oppure su Facebook o Twitter. Detto questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!